Dopo il grande fratello Vip, l'isola dei famosi, cancelletto saranno isolani, è arrivato il momento del grande fratello Nip, il grande fratello dei personaggi non famosi. Ma chi ci sarà a condurlo? Inizialmente si parlava di Belen Rodriguez, la showgirl argentina sembrava aver spazzato via la concorrenza. Ora, il settimanale Spy, con il numero in edicola da venerdì 26 gennaio, rivela che in pole position c'è Barbara Palombelli. La conduttrice di Forum, scrive la rivista, avrebbe battuto la concorrenza di Belen Rodriguez, Anna Safroncic e Ambra Angiolini per conquistare il timone del reality. Del resto Barbara Palombelli in questo momento è la conduttrice che può vantare la maggiore esperienza tra le candidate in lizza. E sempre il settimanale Spy ha condotto un'inchiesta dalla quale risulta che Barbara Palombelli attualmente detiene il record di presenza sul piccolo schermo con 21 ore a settimana. Al secondo posto si posizionano Francesca Fialdini e Marco Liorni con 14,5 ore a settimana e al terzo posto c'è Maria De Filippi con 14 ore.